Più che nelle edizioni precedenti, questa quarta del Master Universitario Medical Humanities Scienze Umane Applicate alla Cura sarà dedicata alla medicina narrativa. Si sa, come è noto, si tratta di una pratica di cura, un approccio di metodo multidisciplinare che viene applicato sia in ambito sanitario che in ambito socioeducativo. Si tratta del primo Master di tutto il mezzogiorno dedicato a questi argomenti, firmato dall'Università degli Studi su L'Ursola Benincasa di Napoli, in collaborazione con la Facoltà di Medicina del Campus Biomedico di Roma e in collaborazione soprattutto con la Società Italiana di Medicina Narrativa. Un percorso intensivo che prevede lezioni teoriche online, ma anche laboratori, anche tirocinestagio, lavori a progetto, che si fa a cantiere di confronto tra esperti, neolaureati, laureandi, docenti naturalmente dal territorio nazionale esperti in medicina narrativa per formare degli specialisti del settore. È un cantiere anche di pubblicazioni, escono quest'anno anche i quaderni di Medical Humanities e quindi la medicina narrativa trova casa all'Università degli Studi solo su L'Ursola Benincasa di Napoli. Per saperne di più www.unisob.na.it slash medical humanities